Nasce l'Accademia del Teatro Musicale, un progetto, un'idea di Saverio Marconi, un omaggio al territorio di Tolentino, una fortuna avere questa realtà, ma è anche un messaggio per voler sicuramente continuare a puntare l'attenzione sulla formazione e sull'aspetto professionale della formazione. Sì, assolutamente sull'aspetto professionale, credendo che in Italia ci siano dei talenti eccezionali che vanno aiutati, spinti. Lo scopo, secondo me, di una persona, di una società come la Compagnia dell'Arancia, con le iniziative che ha fatto Tolentino ormai da 30 anni, è questo, continuare su questa strada, perché sono soltanto passando il testimone ad altre persone qualificate, valide, che abbiano un respiro internazionale, puoi pensare che il mondo continui. Quindi un progetto che prosegue un po' la storia di questi 30 anni e perché Tolentino? Perché è nato tutto qui, perché la Compagnia è qui, perché le maggiori soddisfazioni in fondo sono partite da qua, quindi mi sembra giusto, fondamentale e importante anche perché nella provincia c'è una grande concentrazione e quindi questo è importante. Questo è un progetto che sta nascendo, cioè non è che dopo domani inizia, perché c'è una collaborazione con il Comune, che il Comune ha sancito in collaborazione con noi, di riuscire a portare avanti questo progetto, che è un progetto naturalmente, visti i tempi difficili, con nessun onere per il Comune. Grazie.